buonasera dalla redazione andreste mai contromano con la vostra auto col vostro scooter in un senso unico oppure imbocchereste un senso vietato addirittura attraversereste le strisce pedonali insieme ai pedoni immagino che la cosa non vi sfiori minimamente il pensiero a meno che non siate nel pieno possesso delle vostre facoltà mentali il coge della strada equipara le biciclette a un qualsiasi veicolo e quindi come tale il ciclista è tenuto al rispetto del codice della strada sia che si sposti in una strada comunale sia che ci si trovi all'interno di una ztl di un centro storico come anche a fano l'unica differenza tra una bicicletta ed un'auto come ci ha spiegato l'ingegner curina dell'ufficio mobilità urbana del comune di fano e che mentre le auto hanno bisogno di un permesso speciale per accedere alla ztl le biciclette lo possono fare liberamente ma questo crea naturalmente soprattutto in giornate di grande affluenza al centro storico come può essere il mercato una commistione spesso alle volte difficoltosa tra biciclette e pedoni le biciclette le quali devono rispettare come abbiamo sentito lo stesso codice della strada che sono tenute a rispettare le automobili e allora come ci si comporta come qual è l'atteggiamento dei fanesi sentite che cosa ci hanno detto io sono più propensa con la bicicletta basta che uno ha educazione sta attenti ai vari passanti ma i passanti camminano come se fossero delle pecore purtroppo camminano male per cui convivenza ecco bisogna avere l'educazione da parte a sto attento a non metterci sotto nessuno ecco è una cosa divertente assolutamente cosa divertente piacevole perché aumentano i riflessi l'attenzione no no ci vuole in bicicletta assolutamente sì il corso vado a piedi con la bicicletta in mano mi scusi una domanda in bicicletta col cellulare insomma di tutto di più è fatto di tutto per sbagliare no bicicletta va bene è un'attività sana però basta che usi un po di prudenza tolgo il cellulare a poi la ringrazio anche a lei veramente io in genere l'appoggio e poi vengo a piedi però non quando ci vengo proprio non ho mai problemi io è proprio attenta anche per gli altri vi è capitato qualche volta con qualche bicicletta di fare qualche gincana sì guardi io le odio mi dispiace ma io dico proprio che odio le biciclette dentro il mercato perché mi sono operata un mese fa una vena è arrivata una bicicletta da dietro mi è venuta proprio addosso alla vena cioè è impensabile almeno dentro il mercato evitiamo le biciclette capita visto che lei insomma utilizza la bicicletta di insomma coi pedoni qualche situazione un po ma sì è normale che per il centro la gente si ferma guarda le vetrine saluta parla in mezzo alla strada da una parte negli angoli dietro l'angolo è normale sta più in chi va in bicicletta stare attento mi sembra normale giriamo in molti in molti sì la prudeno è però piano bisogna andare piano se si va piano incidenti ce ne fanno pochi sia in macchina che in bicicletta e su questo argomento naturalmente abbiamo sentito anche l'assessore alla viabilità cristian fanesi e anche questa amministrazione sta spingendo tanto a questo a questo livello per la progettazione poi realizzeremo piste cicliari quindi teniamo tantissimo che la gente usi la bicicletta in alternativa alle macchine autovetture quindi noi ci teniamo tantissimo ad esempio però nel centro storico soprattutto lungo corso matteotti ovviamente un classico esempio dove convivono sia i pedoni sia i ciclisti e quindi l'invito che faccio è in caso di grandissima presenza di pedoni scendere dalla bicicletta e in tutti gli altri casi invito al buonsenso che fa sempre bene sia ciclisti che i pedoni perché si deve stare tutti insieme si può passare tutti insieme ovviamente avendo rispetto della libertà altrui quindi quello che dico è che l'amministrazione chiede il buonsenso a tutti perché il corso matteotti sia fruibile da pedoni in sicurezza che sono l'ultima no diciamo la la cose che dobbiamo proteggere maggiormente ma anche i ciclisti perché teniamo tantissimo che la gente usi la bicicletta in alternativa al traffico delle degli autoveicoli ebbene quindi che siate pedoni o ciclisti il buonsenso innanzitutto e dalla redazione è tutto restituisco la linea allo studio grazie